Come è possibile migliorare la sopravvivenza? Questo per le complicanze. L'altro argomento del convegno è cosa devo fare per prevenire le recidive perché nonostante tutti i miglioramenti, nuovi farmaci, expertise dei centri ci sono sempre una fetta di pazienti, c'è una fetta di pazienti che è intorno al 40% che è recidiva nonostante faccia un trapianto correttamente e quindi bisogna fare di tutto per prevenire le recidive oppure per trattare le recidive quando queste purtroppo intervengono. Ed è proprio una met clinical need, come diciamo noi, un hot question a cui bisogna rispondere e spesso non abbiamo ancora la risposta. L'argomento mio riguardava una complicanza specifica del trapianto che si chiama sindrome da ostruzione sinusoidale, che si ha in corso di trapianto allogenico ma non solo di trapianto allogenico, anche di chemioterapia, anche di radioterapia, ma soprattutto nel trapianto allogenico. È una patologia che può essere mortale anche in una percentuale elevatissima, anche 60, 70, 80% se questa è severa. E quindi riguarda l'argomento, l'identificazione precoce di questa patologia, più precocemente si identifica la diagnosi, più precocemente si può intervenire con dei farmaci che possano essere risolutivi, di una percentuale che è intorno al 40-50% dei pazienti e quindi permette una sopravvivenza in pazienti che invece purtroppo morirebbero. Questa ha un'implicazione economica perché il farmaco è un farmaco costosissimo. Io ho avuto modo di vedere quanto sia complesso, lungo e duraturo l'estrazione di questa molecola, ma non si può fare diagnosi e poi aspettare giorni per ordinare, per avere il farmaco e per poi iniziare a farlo. Si perde il timing, si perde la possibilità di curare al meglio e quindi far sopravvivere i pazienti. E quindi è un dovere riconoscere queste situazioni ed è un dovere curarli al meglio. La rete ematologica ormai è qualche anno che funziona, stiamo lavorando a 360 gradi su quelle che sono le problematiche del paziente ematologico perché stiamo facendo dei PDTA, quindi dei percorsi diagnostico-terapeutici che valgano per ogni patologia e siano uguali dalle ematologie di San Giovanni Notondo alle ematologie di Tricase, quindi è fondamentale questa cosa. Stiamo proponendo studi clinici con nuovi farmaci, farmaci innovativi e stiamo lavorando in gruppo, nel senso che non tutti devono fare tutto anche per ritornare al problema dei costi. Ognuno deve avere un'expertise riconosciuta nell'ambito di una rete. Bisogna fare ancora uno sforzo per arrivare a questa definizione, cioè di capire che non dobbiamo coltivare soltanto in uno sforzo, ma guardare un pochettino più in là. Chi ha contatto quotidiano, chi valuta le problematiche che non sono soltanto cliniche, ma sono anche morali, psicologiche, di impatto socio-economico, sono soprattutto gli infermieri che sono una tradunione fondamentale tra noi, i pazienti, le famiglie. È insostituibile, hanno bisogno di una formazione e quindi sono contento che gli infermieri siano tanti qui stasera perché un paziente ematologico che ha queste problematiche ha bisogno di una serie di attenzioni e qui non bisogna essere superficiali. Questo lavoro bisogna farlo con amore.